In occasione della settimana europea della sicurezza stradale in corso dal 14 al 20 settembre, la sezione di Polizia Stradale di Pesaro ha predisposto sull'intero territorio provinciale servizi utili per ridurre le principali cause di incidentalità, come ad esempio l'elevata velocità, il mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza e l'uso di telefoni cellulari alla guida che ad oggi rappresenta ancora la principale fonte di distrazione per i conducenti. I dati provinciali evidenziano come, dall'inizio del 2020, senza dimenticare il periodo di lockdown di circa tre mesi che ha drasticamente ridotto la circolazione dei mezzi, si siano verificati ben 351 incidenti. Di questi, 4 hanno purtroppo avuto esito mortale, mentre altri 96 hanno registrato feriti. Il comando provinciale di via Gagarin, solo nella giornata di mercoledì, ha messo in campo complessivamente 10 pattuglie, effettuando servizi volti a garantire la sicurezza sulle strade del territorio locale. I controlli effettuati su più quadranti orari hanno portato gli operatori della Polstrada ad elevare oltre 20 contesti, la maggior parte dei quali, circa 15, risultano essere per mancato uso di cinture, mentre altri 10 sono da imputare all'uso dei telefoni cellulari alla guida. Complessivamente, nella settimana appena trascorsa, sono state riscontrate 933 contravenzioni, 1.100 i veicoli e 1.200 le persone che sono state sottoposte verifica. Tra questi spiccano ben 600 mezzi pesanti, oltre 15 autobus destinati al trasporto persone, 450 autovetture e 35 motocicli. I controlli sulle strade del territorio sono stati intensificati inoltre grazie anche alla recente installazione di nuovi tutor autovelox sulla Monte Labattese e sulla strada statale che collega Pesaro a Fano. Proprio il tutor della statale, dalla data di attivazione lo scorso 14 agosto fino ai primi giorni di settembre, ha permesso di sanzionare ben 705 automobilisti per aver superato il limite di velocità consentito, che nel tratto all'ingresso della città di Pesaro arriva a toccare i 30 km orari. Sorte poco diversa per i conducenti della Monte Labattese. In appena due settimane dall'avvio dei controlli, il nuovo autovelox ha registrato più di 770 infrazioni.